Buonasera a tutti, ciao e grazie di essere venuti qui. Questa sera finalmente torno live dopo tanto tempo e torno con una serata speciale perché sono qui insieme a Davide Cocco che già conoscete e insieme siamo qui con Paolo Ferri. Grazie Paolo di aver accettato il nostro invito, grazie di essere qui questa sera. Grazie a voi. E Paolo Ferri ve lo ricorderete perché abbiamo parlato di Comete e di questo meraviglioso libro che vedete specchiato ma comunque ve lo ricorderete è la missione Rosetta, una delle missioni più ambiziose e straordinarie della storia dell'umanità ma in realtà nel libro si parlava della storia delle missioni fatte per dare la caccia alle comete. E un po' in questo spirito con una storia dietro a come sono state fatte le grandi missioni dietro l'esplorazione solare e l'Agenzia Spaziale Europea che è stata protagonista di alcune delle più grandi missioni che abbiamo fatto verso il Sole abbiamo di nuovo qui Paolo per raccontarci del suo nuovo libro che vedete qui il lato oscuro del Sole. Forse al contrario, non so se lo vedono specchiato però insomma... No, nel tuo caso, nel tuo caso. Si vede bene? E quindi parto subito dalla domanda più ovvia e scontata ma almeno abbiamo un quadro generale. raccontaci qualcosa di questo libro e qual è stato il tuo ruolo e chi sei per il pubblico che non ti conosce. Sì, allora buonasera a tutti. Vabbè, prima di tutto io sono stato... praticamente ho lavorato tutta la mia carriera dell'ESA nel campo delle operazioni di missioni. Io sono come background uno scienziato, sono un fisico ma il mio lavoro è stato quello di far volare i satelliti. Prima alcuni satelliti appunto intorno alla Terra poi mi sono un po' più concentrato su quelli interplanetari come Rosetta e infine alla fine della mia carriera che è finita l'anno scorso ora sono in pensione e posso scrivere i libri alla fine della mia carriera ero responsabile delle operazioni di missioni dell'ESA per tutti i satelliti. Quindi il mio lavoro è quello tant'è vero che questo libro non è che parli veramente della scienza del Sole sì, non la puoi ignorare e ovviamente cito delle cose ma il nostro lavoro è quello non di fare scienza ma di permettere agli scienziati di fare scienza. Quindi io descrivo il lavoro degli operatori di queste... del controllo missione di queste missioni spaziali che è il mio lavoro e in questo caso nel caso di Rosetta era concentrato sulla missione di Rosetta che ho seguito per due... per vent'anni in questo caso invece ho fatto una carrellata di tante missioni dell'ESA che si sono occupate del Sole e alle quali praticamente in un modo o nell'altro ho avuto anch'io... ho dato dei contributi ho lavorato a vari livelli su queste missioni con l'esclusione di una che è Soho e quindi mi sono ritrovato come nel primo libro a raccontare storie del controllo missione e questo più o meno è il contenuto del libro sono storie della mia vita dei miei 40 anni passati all'ESA Tra l'altro c'è anche un punto in comune con il libro precedente che mi ha fatto un sacco piacere che è il raccontatore della missione Cluster che è una delle mie emozioni cioè è una delle storie che mi emozionano sempre tantissimo perché spesso sentiamo tantissimo raccontare delle missioni che hanno avuto successo hanno funzionato però dimentichiamo che se poi dopo succede qualcosa durante il lancio di una missione non è che prima non è successo niente solo perché poi dopo non viene ricordata anzi moltissimo lavoro è andato in fare quella missione e ha creato poi dopo è stato ereditato strada facendo per altre missioni Sì certo e tra l'altro Cluster è una missione davvero tormentata che è rinata varie volte è nata con l'esplosione del razzo Ariane 5 nel giugno del 96 dopo 37 secondi di volo quindi praticamente quasi mai nata ma dopo i satelliti sono stati ricostruiti lanciati 4 anni dopo e sono satelliti vecchissimi perché erano stati praticamente progettati negli anni 80 lanciati nel 2000 per via di tutto di queste peripezie e stanno ancora funzionando adesso e sono un esempio straordinario del lavoro del controllo missione perché i nostri ragazzi lì ormai riescono a farli funzionare con una serie di guasti assurdi e riescono ancora a produrre tantissima scienza quindi sono ancora vivi questi satelliti che dovevano volare alla fine degli anni 90 mamma mia che emozione tra l'altro c'è una delle missioni solari a cui sono affezionato perché è un pezzo di storia che durerà ancora molto probabilmente non ci sarà più io da molto tempo credono forse neanche tutti noi perché Wind Wind scusa che è stata lanciata nel 94 e le previsioni attuali sono di durata fino al 2070 per cui è straordinario pensare che ci sarà una missione fino al 2070 lanciata nei anni 90 e posso immaginare come sarà per loro vedere una missione del passato così però è anche un vantaggio studiare il sole per tantissimo tempo giusto? sì il sole poi ha questi cicli che ormai conosciamo ne conosciamo l'esistenza ma non ne capiamo ancora bene i meccanismi cicli di 11 anni di 22 anni quindi riuscire a studiare il sole con gli stessi strumenti con la stessa missione durante uno o più di questi cicli è molto importante perché si riesce a paragonare le misure sotto le varie nelle varie condizioni quindi il processo è importante il processo di continuare a fare le stesse misure su lungo tempo è estremamente importante particolarmente per una stella come il sole volevo passare la palla anche a Davide perché ho visto che si è preparato un sacco di domande no più che altro volevo rassicurare la gente che guardava perché spesso quando uno sente parlare di robe anche fondamentalmente tecniche specifiche quelle che si fanno al centro controllo delle missioni è un lavoro particolare e questo tipo di libri il precedente ma soprattutto quest'altro sono racconti di emozioni poi fondamentalmente di esperienze di aneddoti personali non è un manuale tecnico non è una una sorta di libro ingegneristico o scientifico è il racconto personale di di un'esperienza attraverso diverse missioni quello quello è poco ma sicuro e anzi in questa in questo secondo libro è anche un po' più agevolata la lettura per chi arriva da un mondo che è totalmente diverso perché ci sono più immagini più didascalie a livello proprio di spiegazioni di concetti che non sono di tutti i giorni grafici quindi è molto consigliato per chi vuole iniziare ad approcciarsi per capire come funzionano le missioni indipendentemente poi da il fulcro centrale da quella che sarà la missione l'obiettivo scientifico diciamo così però sì lo consiglio tanto anche a chi a chi vuole cominciare e vabbè delle missioni trattate ne abbiamo parlato insomma sono veramente parecchie in un modo o nell'altro l'agenzia spaziale europea si è avvicinata al sole in più modi questo è poco ma sicuro io comincerei subito con una domanda particolare cioè se sia meglio il gelo dello spazio o il caldo nello spazio perché è diciamo tutte e due libri ragionano su questi concetti del freddo assoluto che ha dovuto subire Rosetta dell'ibernazione del rischio di non riaccendersi dopo l'ibernazione e in particolar modo quest'altro qui ovviamente avvicinandosi al sole c'è l'esatto opposto la maggiore energia calore energia elettrica eccetera eccetera quindi il dilemma qual è? è un bel dilemma in effetti io a volte quando faccio delle lezioni sul volo interplanetario proprio punto su questo il problema dell'energia non è soltanto termica è anche problema di energia dinamica delle comunicazioni eccetera e quando ci si allontana dal sole se ne ha troppo poca quando si avvicina al sole ci si avvicina al sole ce n'è troppa io personalmente con le mie esperienze preferisco il gelo in qualche modo il gelo lo si riesce un po' meglio a controllare fin dall'inizio con Rosetta per esempio che era stata costruita per andare nel gelo dello spazio volare molto lontana dal sole all'inizio della missione abbiamo dovuto avvicinarci di pochissimo rispetto all'orbita della terra una cosa tipo 15-20 milioni di chilometri che sembra tanto ma in realtà è il 12% rispetto alla distanza terra sole e solo questo è bastato a riscaldare il satellite in un modo mostruoso e quando si riscalda non è che uno può andare all'ombra può aprire un ombrellone quando si è nello spazio e si è esposti al sole non c'è niente da fare bisogna semplicemente sperare di avere progettato la sonda nel modo giusto in modo che dissipi questo calore nel modo giusto senza raggiungere temperature che la possano danneggiare Rosetta si è avvicinata di poco le missioni come Bepi Colombo e Solar Orbiter o anche Venus Express che avevamo in volo fino al 2015 sono andate molto più vicino e lì addirittura diciamo le sfide tecnologiche per chi progetta la sonda non solo per chi la fa volare sono complicatissime perché appunto di questo calore bisogna non si può trovare una soluzione non si può improvvisare una soluzione per liberarsene ho diversi ho diversi colleghi amici che fanno analisi termiche ed è veramente un incubo lasciatevelo dire perché è una roba è quasi magia perché uno può arrivare a fare qualsiasi tipo di simulazione di flussi però poi la realtà è sbugiare da sempre in qualche modo quindi lì è quasi uno dei campi in cui il margine che ci si lascia viene risicato più in fretta di tutti gli altri ed è fastidioso perché a volte è una condanna avere poco calore a volte è una condanna averne troppo quindi come la Riccia Lidoro la giustà di imparare sia pre-problematica poi immagino che scusa dicevo nel libro ci sono adesso me ne vengono in mente almeno tre di episodi in cui veramente siamo stati sorpresi i progettisti della sonda avevano previsto altre cose rispetto a quelle che sono successe è molto difficile come dicevi tu prima fare un'analisi termica che sia estremamente realistica e che non presenti sorprese io tutte le mie missioni ho sempre avuto sorprese termiche e in certi in certi casi appunto le sorprese poi finiscono anche a danneggiare permanentemente le cose quindi bisogna veramente stare estremamente attenti tra l'altro immagino che un'altra complicazione appunto potrebbe essere una missione che deve sopportare sia un momento di grande caldo che poi freddo esattamente questo è un punto molto interessante perché qui c'è una specie di dilemma per esempio quando si vuole andare si vuole volare lontano dal sole per questioni anche lì di energia dinamica si cerca di usare la gravità dei pianeti per accelerare la sonda e lanciarla proiettarla lontano dal sole e un metodo molto molto efficiente è dirigersi verso il sole per esempio passare da venere e lì prendere un calcione gravitazionale veramente forte e alcune missioni l'hanno fatto però lì c'è questo dilemma io progetto una missione che magari deve volare a 3 miliardi di chilometri dal sole però nei primi anni deve avvicinarsi tantissimo a 100 milioni di chilometri quindi devo progettare la sonda in un modo molto particolare Cassini per esempio che l'ha fatto ha usato l'antenna per la trasmissione questa specie di paraboloide come schermo quando si è avvicinato al sole ha puntato l'antenna verso il sole comunicando con delle piccole antenne tanto lì la distanza dalla terra non era enorme e l'ha usato come schermo termico insomma bisogna trovare dei sistemi delle idee un po' creative l'antenna tra l'altro è fatta in Italia so che c'è una copia dell'agenzia spaziale italiana ci sono stato sotto ed è più grande di me a braccia aperte quindi è bella enorme è bello pensare che l'hanno usata come scudo sia per il sole che alla fine della missione per gli anelli per le particelle degli anelli stessi di Saturno non so i progettisti di quell'antena quanto hanno dormito tranquilli quando gli hanno detto guardate la vogliamo usare come scudo per le radiazioni solari qualcuno probabilmente è svenuto ma vabbè però mi ricordo ora c'entra in realtà con l'agenzia spaziale giapponese però mi ricordo l'emozione nella voce dei progettisti della missione Akatsuki quando avevano perso l'incontro con Venere che dovevano restare un intero anno ancora vicino a Venere perché appunto parlavano del fatto che non era progettata la sonda per andare a fare un giro intorno al sole in quel modo certo e avvicinarsi molto di più tra l'altro quindi questa è un'altra cosa appunto altri episodi che racconto nel mio libro sono appunto i momenti critici del nostro mondo delle operazioni per esempio come quando ci si avvicina a un pianeta quando Venus Express doveva entrare in orbita attorno a Venere bisogna fare una manovra per frenare e essere catturati dalla gravità di Venere e quella manovra deve funzionare in quel momento se non funziona si scappa via è successo alla sonda giapponese Akatsuke e per fortuna è rimasta su un'orbita che alcuni anni dopo l'ha riportata verso Venere ma è un caso più unico che è raro quindi una volta perso quel momento se non si accende il razzo al momento giusto la missione è finita tra l'altro un'altra cosa affascinante del problema del calore mi era venuto a mente leggendo quando raccontavo di Bepi Colombo perché lì c'è il calore sia dal riflesso dalla superficie di Mercurio che dal Sole quindi non c'è non c'è scampo è vero infatti da un certo punto di vista Solar Orbiter che adesso si sta avvicinando tantissimo al Sole entro l'orbita di Mercurio quindi veramente oltre se vogliamo i confini che abbiamo visto fino ad ora arrivando a Mercurio Solar Orbiter l'abbiamo potuto costruire dietro uno scudo termico c'è uno scudo termico tutti gli strumenti sensibili stanno dietro restano problemi lo scudo viene puntato verso il Sole e protegge lui diventa si scalda a 500 gradi ma dietro fa freschino benissimo ci sono naturalmente altri problemi per esempio se uno vuole fotografare il Sole bisogna fare un buco nello scudo termico aprire una porticina e quando la apri ti arriva il flusso di calore le radiazioni quindi i problemi rimangono però è un sistema anche dal punto di vista dinamico abbastanza semplice Bepi Colombo deve girare attorno a Mercurio e quindi ha il Sole da una parte e Mercurio dall'altra che è una specie di forno perché riflette la luce solare e la riflette in modo che per esempio nell'infrarosso la radiazione riflessa di Mercurio è cinque volte quanto la radiazione infrarossa del Sole alla Terra è un forno incredibile quindi deve proteggersi da tutte e due le parti ed è quindi rende la missione molto più delicata molto più complessa e anche la progettazione della sonda ovviamente ma c'è qualcosa per esempio delle missioni che sono ora in volo come solo Rorbit a Bepi Colombo che durante le prime missioni quando ha iniziato la carriera sarebbe stato impossibile tecnologicamente da fare allora decisamente ci sono questioni di dinamica che quando ho iniziato la mia carriera non eravamo in grado di risolvere per arrivare a Mercurio Bepi Colombo deve fare una traiettoria molto molto accurata e vola tra l'altro vicino a Mercurio molte volte sei volte la prima l'ha già fatta in ottobre la seconda settimana prossima ci vola a distanza di pochissimi chilometri la prima volta penso se ricordo bene fosse 200 chilometri dalla superficie e e questo gli permette di rallentare quindi gli passa varie volte accanto viene rallentato alla fine potrà nel 2025 entrare in ordine questo tipo di dinamica del volo l'abbiamo imparato tutte le tecniche tutti gli algoritmi tutte le diciamo i sistemi anche di terra li abbiamo sviluppati solo a seguito di Rosetta prima non saremmo mai stati in grado di fare una cosa del genere gli stessi americani ci hanno messo tanto a mandare una sonda a Mercurio la prima che mandarono nel 73 fece soltanto tre sorvoli e le attraiettorie la calcolò tra l'altro appunto Bepi Colombo uno scienziato italiano a cui poi noi abbiamo dato il nome di questa sonda quindi loro stessi che hanno molta più esperienza di volo interplanetario ci hanno messo veramente tantissimo hanno mandato finalmente una sonda in orbita soltanto una decina di anni fa tra l'altro giusto per ricordare quella missione che fu straordinaria perché essendo la prima a fare qualcosa del genere come spesso capita un sacco di cose sono rotte è sempre molto affascinante vedere quando qualcosa non va e devi trovare una soluzione poi quelle soluzioni vengono ereditate in nuove missioni successivamente certo tra l'altro scusa tra l'altro nella mia carriera mi chiedevi prima io quando ho iniziato i nostri satelliti si guastavano subito al lancio andavano a pezzi sopravvivevano magari un anno o due la nostra industria europea sì la nostra industria europea nonostante io ho iniziato a metà degli anni 80 gli americani avevano già mandato uomini sulla luna da quasi 20 anni però la nostra industria europea stava ancora imparando si rompevano tutti questi satelliti invece oggi ma non dico oggi in realtà a cominciare dalle sonde i satelliti costruiti alla fine degli anni 90 sono ancora lì che volano adesso sono bastati quei dieci anni tra diciamo la seconda metà degli 80 e la seconda metà dei 90 per l'industria per capire come si fa a costruire una cosa che va nello spazio perché non è che poi basta niente una colla o un materiale che rilascia gas può succedere in tutti i colori e non puoi non puoi necessariamente fare conto sulle cose che usi sulla terra tra l'altro infatti stavo pensando anche a cose tipo la prima missione verso mercurio avevano scoperto quanto può fare la differenza della pressione del vento solare su usando poi dopo l'inclinazione dei pannelli solari per cambiare l'orbita e mi era venuto a mente perché una cosa così piccola poi dopo ha salvato la missione Kepler alla fine della sua vita quando non funzionavano le ruote di reazione e quindi sono riusciti a salvare un'intera missione tra l'altro facciamo lo stesso in questo momento noi con con Bepi Colombo cioè usiamo la pressione di radiazione per scaricare le ruote di reazione che loro si caricano di insomma aumentano di velocità sempre perché ci sono devono reagire alle forze perturbative in un certo punto poi noi le scarichiamo usando la pressione di radiazione e Integral recentemente è stato salvato con quello non per le ruote di reazione per i propulsori che non funzionano più bene e adesso Integral funziona certo no no ma è tutto molto molto versatile da quel punto di vista perché qualsiasi cosa qualsiasi soluzione a un problema trovato per una missione poi puoi anche propagarla a tutte le altre diventa quasi conoscenza comune e volevo citare questa cosa che sicuramente farà piacere ad Adrian ha fatto piacere ad Adrian che c'è anche una parte del libro che è dedicata un po' alla storia dell'esplorazione solare o della storia di come si è visto il sole negli anni quindi non solo dal punto di vista spaziale ma anche dal punto di vista storico il rapporto degli esseri umani con la figura del sole quindi c'è anche questa cosa qui che di solito manca quando si parla di robe puramente scientifiche anche un aspetto puramente puramente storico e poi volevo risortare le personcine in chat a fare domande se hanno questioni particolari ecco appunto non ho vista una adesso come si può entrare a lavorare per il gruppo robotico dell'ESA in generale prendiamo la larga come ci si arriva che poi questa era una delle domande che volevamo fare a lavorare all'agenzia spaziale europea magari nel centro controllo in ESO anche a Darmstadt sì allora vabbè io ci sono arrivato veramente un colpo di fortuna negli anni 80 in quei tempi l'ESA non assumeva nessuno hanno lanciato un satellite a raggi X si chiamava un telescopio a raggi X per l'astronomia e si sono resi conto che avevano bisogno di persone cioè quindi gente con un background scientifico che aiutasse gli scienziati a far funzionare gli strumenti in tempo reale perché allora si lavorava in tempo reale con questi cosi e quindi hanno assunto di colpo sei giovani scienziati appena laureati con poca esperienza o zero io avevo zero tra l'altro io non ero neanche un astrofisico io ero un fisico teorico mi hanno assunto come astrofisico si vede che sono riuscito a imbrogliarli durante il colloquio comunque hanno assunto sei persone di colpo e quindi io ho avuto l'opportunità di essere tra questi sei lavoravamo a turno quindi per aiutare questi scienziati questo satellite funzionava 24 ore su 24 e quindi noi supportavamo licenziati a turno però in generale cosa succede oggi con l'agenzia spaziale europea prima di tutto vabbè uno dovrebbe laurearsi con un laurea magistrale in campi come ovviamente l'ingegneria un po' tutti i tipi di ingegneria perché abbiamo bisogno di ingegneri di ogni genere non solo aerospaziali anche meccanici per esempio le nostre stazioni di terra sono dei gioielli di meccanica e ovviamente tutte le strutture dei satelliti eccetera oppure informatici telecomunicazioni insomma un po' di tutto ingegneri ci sono i fisici come me non sono la maggioranza ma fanno un sono un bel miscuglio assieme agli ingegneri perché io dico sempre fare una missione io non farei mai volare una missione fatta solo da scienziati però anche una fatta solo da ingegneri sarebbe noiosissimo invece mescolando scienziati e ingegneri viene fuori il miscuglio migliore e poi possiamo parlare dei miscugli perché l'ESA è veramente un esempio straordinario di mescolanza di diversità di ogni genere a cominciare dalle nazionalità ed è secondo me una delle ricette del suo successo comunque ingegneri fisici matematici informatici questi sono la maggior parte ovviamente della gente che viene a lavorare da noi e c'è un programma per giovani laureati senza esperienza che si chiama Young Graduate Trainee una volta all'anno l'ESA fa dei bandi ovviamente è un programma molto molto ambito quindi ci sono tantissime domande però non è non è una cosa non è come fare l'astronauta che ci sono 23.000 domande per 10 persone ecco o 4 non lo so magari magari stiamo parlando di uno a 10 o forse un po' di più comunque non è impossibile ed è una cosa che io raccomando sempre se uno riesce ad entrare in quello indipendentemente che voglia poi lavorare per l'ESA è un programma di training fantastico perché si lavora veramente cioè noi usiamo questa gente per lavorare e quindi imparano sul campo per un anno o due anche adesso si può estenderlo a due imparano il lavoro un altro metodo che abbiamo noi ed è in effetti forse il modo più diretto per entrare da noi noi in un centro di controllo come l'ESOC che è il nostro centro di controllo ad armstadt in germania un quarto degli ingegneri è staff dell'ESA un quarto del personale tecnico e scientifico è staff dell'ESA tre quarti vengono da ditte europee che forniscono personale forniscono servizi in realtà non forniscono personale però i servizi sono gente adeguata che sa fare quel lavoro e sono anche molte ditte italiane e attraverso queste ditte noi attingiamo veramente in Europa ai migliori e loro prendono spesso gente giovane li passano a noi e praticamente si addestrano sul campo non come staff dell'ESA ma come contrattisti da noi è la stessa cosa i nostri team sono mescolati e poi se uno poi vuole restare nel campo delle operazioni può sempre negli anni successivi approfittare dell'occasione giusta per entrare nell'ESA però si può fare anche carriera nelle operazioni anche attraverso l'industria sicuramente questo è io dico sempre poi lavorare nello spazio c'è l'agenzia spaziale c'è l'industria ci sono le università ci sono tantissimi lavori nello spazio però nelle operazioni appunto i due canali principali sono questi young graduate trainee e entrare come giovani ingegneri nei team che ci vengono forniti dall'industria sì poi il mercato delle consulenze viene chiamato anche consulenze che poi è diverso dalla consulenza da cui siamo abituati che uno arriva e dà la sua opinione in quanto esperto quello delle giovani menti che vengono prestate per questo tipo di lavoro qui è una roba un po' più al chilo cioè sono tante persone che vengono messe in tante posizioni diverse a fare ruoli di addestramento per un paio d'anni e poi cambiano è comunque un mercato florido quindi ci sono tanti colleghi i miei ex colleghi che stanno in questo momento a Darmstadt che fanno quello di mestiere non come staff ESA ma appunto come staff di qualche altra azienda che fornisce servizi di consulenza per conto dell'Agenzia Spaziale Europea quindi non demordete da quel punto di vista c'è possibilità assolutamente assolutamente e anche una cosa che è successa negli anni è quando io ho iniziato c'era questo lavoro cioè i nostri team sono un po' c'è uno strato che sono i tecnici che fanno il controllo missioni in tempo reale quindi sono quelli che parlano con i satelliti poi c'è li chiamiamoli Specon SpaceCab Controllers questi Specon sì è vero è il primo passo è il primo livello del team però una volta erano semplicemente degli operatori avevano un sacco di lavoro manuale da fare seguire procedure e schiacciare bottoni oggi no lo Specon è aiutato dai computer e lo Specon è diventato un modo di entrare nel nostro mondo anche per gente qualificati come ingegneri aerospaziali cominciano come Specon che una volta era un lavoro più da non laureati invece oggi è un lavoro molto più complesso meno manuale è un lavoro molto più di concetto e quello è un modo ho appena conosciuto due ragazzi italiani giovanissimi che sono entusiasti di lavorare per le nostre missioni in quel ruolo ed è il primo passo a proposito tra l'altro di questo so che ne parlavi anche in Cacciatore delle Comete riguardo a Rosetta ma immagino sia vero anche per tante altre missioni hai visto con missioni così lunghe hai visto proprio il passaggio di testimoni tra generazioni nuove che stavano arrivando giusto all'intero dell'ESA certo nel libro di Rosetta del Cacciatore delle Comete ovviamente è più facile seguendo una sola missione per vent'anni mi è stato più facile descrivere se vuoi anche lo sviluppo di queste generazioni e lì vedi veramente in vent'anni come io ho cambiato tre ruoli e poi negli anni ho assunto gente giovane che nel frattempo entrava io ho assunto gente che avevano 23, 25, 28 anni e oggi questa era la fine degli anni 90 inizio 2000 oggi questi sono quelli che dirigono le missioni al centro al nostro centro spaziale ti posso citare Bebi Colombo come si dice Solar Orbiter Giuse che è quella che andrà adesso verso Giove sono tutti veterani di Rosetta ed è solo una breve lista lì era stato più facile seguire lo sviluppo di questi ragazzi ho messo molto in evidenza questa cosa perché è anche una cosa in cui io sono molto orgoglioso e credo che sia uno dei prodotti secondari degli effetti secondari di Rosetta più importanti in questo libro seguo meno le carriere della gente però appunto li vedi apparire li vedi apparire qua e là vedi anche a volte apparire alcuni dei veterani di Rosetta che fanno capolino in un capitolo poi spariscono quindi chi ha letto il primo li riconoscerà come le serie di V che si autocitano mano a mano che vanno avanti evidentemente sto imparando anche qualche trucco di Mark bellissimo e io c'è una domanda un po' fastidiosa magari come si riesce a gestire il tempo lavorativo in questo caso quando si seguono più missioni in parallelo cioè nel senso è capitato di dover stare ancora in un ruolo anche abbastanza importante su una missione e dover già cominciare a pianificare una se non due dipende qua dalle missioni altre cose in parallelo quanto è complicato e come si può fare allora la risposta forse più più brutale è si sacrifica la vita privata e questo è quello che è successo a me nel libro cito per esempio il mio passaggio da Eureka a Claster Eureka ed era uno di questi satelliti degli anni 80 che si rompeva tutto e doveva essere riportata a terra da uno space shuttle e lo space shuttle ritardava il lancio e quindi lavoravamo 24 ore su 24 su Rosetta e mi hanno assegnato come SOM che è diciamo il responsabile del team delle operazioni per Cluster che doveva essere lanciato di lì a meno di tre anni e quando succede questo è veramente difficile gestire le cose la la missione in volo prende le priorità sempre perché quando ti chiamano c'è un problema devi correre indipendentemente da quello che stai facendo e l'altra missione è lì bisogna un po' trovare il tempo per gestirla e devo dire che sono stati mesi ho avuto un overlap di 6 8 mesi tra le due e sono stati mesi durissimi indipendentemente dal fatto che per esempio mi hanno tolto dai turni on call di Rosetta di Eureka ma poi quando succedeva un problema dovevo andare perché ero quello che l'aveva seguita più a lungo e quindi cito un po' queste cose e non c'è una ricetta però alla fine quello che succede è che come diceva un mio collega il giorno ha 24 ore e se non serve si usa la notte è sensato per quanto poco simpatico infatti l'altra domanda era come si gestisce questa è una domanda del pubblico che è stata fatta su Instagram come si gestisce a questo punto il lato familiare e in che modo ne risente cioè a quali patti si vengono a creare per cercare di gestire tutto nel senso è stata mai così tanto pesante da dover dire non lo so allora io ho avuto molta fortuna ho sempre avuto soprattutto una moglie ma anche una famiglia che mi ha mi ha secondato tantissimo lo spazio è sempre stata la mia passione e lo vedevano in ogni momento in ogni frase in ogni sguardo e quindi non se la sono mai sentita di tarparmi le ali però sicuramente ho dovuto scendere dei compromessi e appunto ho avuto la fortuna che questa famiglia mi ha supportato tantissimo ad altri non è successo così comunque il nostro lavoro è anche cambiato io parlo degli anni durissimi sono stati gli anni 80 gli anni 90 perché eravamo ancora nella fase pionieristica allora succedeva qualcosa si correva al centro di controllo e non si sapeva quando se ne sarebbe uscito dormivamo lì mangiavamo lì quando mangiavamo ho fatto ho provato a non alzarmi da una sedia per 16 ore non avevamo telefonini non avevamo internet quando uno ci chiamava bisognava correre oggi è un po' cambiata la cosa e certo i i satelliti richiedono che quando c'è bisogno la gente corra però succede meno di frequente si hanno anche possibilità per esempio appunto io quando quando ero on call quindi come si dice in italiano on call quando uno è disponibile si di disponibilità reperibile esatto quando ero reperibile a me mi suonava un beeper come succedeva nei film americani degli anni 50 il cerca persone suonava io dovevo correre a un telefono io ricordo ero in un parco giochi con mio figlio dovevo prendere il figlio così correre al telefono telefonare e poi andare in sala controllo oggi io vedo la telemetria sul telefonino torno torno in ufficio posso usare i sistemi torno non in ufficio torno a casa e col mio computer posso usare i sistemi dell'eso quasi tutti è un altro mondo quindi diciamo la necessità di compromessi con la vita privata non voglio non voglio dire che non ci sia perché c'è ancora però è meno meno drammatica di quella che abbiamo vissuto noi nell'era pionioristica d'altra parte l'era pionioristica è stata anche una cosa fantastica una cosa che io non non rimpiego neanche un minuto di quelle cose perché ci siamo ci siamo entusiasmati perché eravamo era quasi un'avventura allora oggi è molto più una professione sì a questo mi collego con una domanda che hanno fatto in chat giustamente dicevano quanto è difficile poi andare a dormire sapendo che sia una sonda nello spazio non tanto una sonda che sta bene dico io ma sapendo che domani c'è un passaggio particolare tipo quello di Rosetta appunto vicino al sole oppure due ruote su tre sono andate come facciamo quanto è difficile poggiare la testa sul cuscino è molto difficile si poggia la testa sul cuscino o quando il problema ha raggiunto diciamo un plateau non diciamo che è stato risolto ma ha raggiunto un plateau spesso succede che praticamente si arriva a un punto in cui si dice bene abbiamo fatto tutto il necessario fino a qui adesso dobbiamo aspettare il risultato di un test oppure il prossimo contatto perché non è che siamo in contatto 24 ore su 24 con tante di queste sonde ma qualche volta bisogna aspettare il giorno dopo c'è un episodio che racconto all'inizio del libro che è esattamente così mi hanno chiamato nel cuore della notte dicendomi che c'era un problema perché il sole ci stava scaldando troppo e io ho chiesto quanto manca alla fine del contatto e la fine del contatto era imminente e quindi a quel punto sapevo che non avrei potuto fare nulla fino al mattino dopo erano le tre di notte ho messo giù il telefono e mi sono addormentato quindi se si era giunto questo plateau è più facile dormire però vabbè ci sono stati casi non solo in casi di anomalie ma casi in cui il giorno dopo c'è un lancio o il giorno dopo si arriva a Marte o a Venere è difficile dormire in queste situazioni perché uno anche in una vita come la mia io a Marte ci sono arrivato due volte anzi tre tre volte non è che succede tutti i giorni e non è una cosa che tanti al mondo possono poter dire sono arrivato a Marte più di qualche volta quindi è è già un carico di per sé nel bene o nel male portarsi dietro una cosa del genere a che mi leggo su un'altra domanda della chat perché qualcuno chiedeva un'opinione sulla praticabilità nel breve termine di esplorare il sistema solare non tanto con le missioni robotiche ma con missioni umane e qui penso apriveremo qua alla fine un capitolo particolare sul fatto che l'agenzia spaziale europea punti di più magari in maniera sensata sulle missioni robotiche che umane per l'esplorazione beh questo è un dilemma che c'è da sempre ho letto di recente un libro sull'inizio del programma Apollo in cui c'erano discussioni se a me ha sorpreso credevo di sapere tutto sul programma Apollo l'ho imparato proprio di recente discussioni se gli astronauti dovessero pilotare il razzo durante il decollo o meno stiamo parlando di questa discussione eterna tra il pilota e la macchina non solo non sto soltanto dicendo chi vola o non vuole ma c'è questo questo dilemma il pilota e la macchina e io penso che ovviamente è chiaro che se si esplora solo con le missioni robotiche si spende un centesimo di quello che si fa con gli esseri umani questo è evidente ed è anche chiaro anche se il mio ex capo che è Thomas Reiter che è un astronauta europeo che è stato un anno nello spazio se mi sentisse dire queste cose mi ucciderebbe è anche chiaro che le macchine al giorno d'oggi possono fare moltissimo di quello che può fare un essere umano da un punto di vista scientifico quindi diciamo diciamo se parliamo di rapporto qualità prezzo non c'è non c'è competizione le macchine sono sono meglio e il rapporto continuerà a migliorare per fare un esempio quando negli anni 60 gli astronauti atterravano sulla luna c'era un programma straordinario con i mezzi di allora per atterrare automaticamente ma loro alla fine arrivavano vedevano il cratere il masso e così e controllavano l'atterraggio negli ultimi metri oggi sono atterrate l'anno scorso due missioni su Marte e l'hanno fatto i computer sia Perseverance che la Tianwen 1 dei cinesi sono atterrate così quindi rapporto qualità prezzo non c'è dubbio però spezziamo una lancia a favore degli astronauti perché io ne sono convinto nonostante abbia mi sia guadagnato il pane con le missioni robotiche e basta gli astronauti sono importanti per portare avanti il sogno ricordo mi ha citato un astronauta dell'Apollo che disse ma tu manderesti un robot in vacanza per te invece di andarci mandi lui tu ti guardi le immagini magari realtà virtuale eccetera e alla fine io sono convinto lo diceva anche Isaac Asimov nei libri di fantascienza della mia infanzia se noi abbiamo perso colonizzare la galassia se noi mandiamo solo macchine nel sistema solare prima o poi perdiamo l'interesse quindi gli astronauti servono a mantenere vivo la fiamma dell'esplorazione per me è molto importante e allora lì vale la pena investire credo scusa vai 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 no 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 diciamo che credo che uno dei vantaggi che possono esserci dietro sistemi così fragili come gli esseri umani è che cercare di farli sopravvivere su altri mondi potrebbe far venire fuori nuove scoperte tecnologiche che magari potrebbero esserci anzi sicuramente saranno utili per noi anche qui quindi anche solo cercare di mantenere umani vivi sulla luna come ora per il programma Artemis per i prossimi prossimi anni sicuramente ci tirerà fuori nuove sfide ogni volta che abbiamo nuove sfide da noi è uguale anche per il mondo della robotica quindi credo che potremo imparare un sacco di cose anche solo banalmente mettere gli esseri umani in condizioni così strane come quelle spaziali sulla stazione spaziale negli ultimi decenni ci ha fatto scoprire nuove cose che possono aiutarci a trovare cure per gli esseri umani qui quindi c'è un vantaggio nel portare gli esseri umani in giro fuori dalla bolla dalla culla come diceva Tsiolkovsky no di contro c'è anche da pensare che non tutti i luoghi che visitano le sonde automatiche possono essere anche solo lontanamente avvicinati dagli umani pensate appunto a Juno che sta intorno a Giove che ha un carico radioattivo incredibile oppure appunto quelle che si avvicinano al sole a maggior ragione cioè in quel caso non si tratta più di una scelta cosa mi conviene o cosa preferisco fare sono scelte obbligate così come di contro quello che dicevamo prima per esplorazioni magari lunare e marziane conviene andare sulla doppia via anche per un fatto ispirazionale di ricaduta tecnologica cioè alla fine è una scelta che dipende da tante tante cose messe insieme c'è una cosa che volevo chiedere quando si parla per esempio di Marte che aveva citato prima c'è stato ci sono spesso questi momenti in cui si va a vedere qualcosa di nuovo che nessuno ha mai visto prima sulla superficie di Marte ogni volta che andiamo in una parte diversa di Marte c'è la curiosità di vedere com'è la superficie ma per quanto riguarda il sole dove la superficie sembra uguale dappertutto oppure cambia continuamente c'è qualcosa c'è qualche momento di una missione solare che ha avuto è stata simile non vedo l'ora di vedere l'immagine sì lo stiamo vivendo un po' con Solar Orbiter è una domanda molto interessante perché appunto uno pensa al sole questa palla di fuoco vabbè in realtà vabbè sappiamo che il sole essendo non una cosa solida ma una palla di plasma e gas ruota diversamente a seconda della latitudine e questi tra l'altro molto probabilmente ruota anche diversamente a seconda della profondità degli strati sicuramente sono queste rotazioni differenziali che creano tanti dei fenomeni che poi ci influenzano sulla Terra tutti quelli legati al campo magnetico quindi andare ad osservare quello che farà Solar Orbiter negli anni a venire zone del sole che dalla Terra e dai satelliti che restano sull'eclittica quindi sul piano dove orbitano tutti i pianeti osservare fotografare cosa succede in zone ad alta latitudine del sole ci farà vedere cose diverse e sì chiaramente un po' tutto si assomiglia ma i meccanismi relativi tra le zone di rotazione differenziale sono diversi già adesso sta osservando questo è l'altro aspetto avvicinarsi al sole ci permette di osservare dei dettagli di questa attività solare che uno si immagina come guardare il fuoco vabbè così guardo il fuoco mi rilassa però invece il guardare il sole è molto importante perché per capire come funziona e soprattutto come viene trasmessa l'energia solare verso la Terra e come funziona il vento solare i campi magnetici che poi influenzano anche il nostro pianeta lo si capisce osservando in dettaglio il punto di partenza che sono questi grandi vortici questi anelli magnetici il solar orbiter ha già individuato nelle immagini che ha mandato che sono le più alte risoluzioni mai raggiunte ha già individuato degli fenomeni che sono in tutta la parte almeno quella equatoriale del sole osservata e nessuno ancora capisce cosa stia succedendo lì sono delle delle gli hanno dato nomi strani come il riccio oppure il fuoco campestre il falò campestre ma sono avendo questa risoluzione si può veramente andare a fare dei modelli che cerchino di riprodurre di capire qual è il meccanismo che crea questi questi strani fenomeni tra l'altro stiamo andando anche in un momento molto particolare perché arriverà la massima solare ora nei prossimi anni assolutamente quello importante per esempio appunto una cosa non la cito quasi mai nel libro perché è quasi banale le macchie solari macchie solari tutti sanno che ci sono le macchie solari benissimo si sono posti dove il campo magnetico è più è più forte quindi c'è meno diciamo meno moti convettivi benissimo ma osservare le macchie solari e osservare come si sviluppano durante la rotazione del sole è importantissimo per capire veramente come funzionano queste cose e è un altro obiettivo di solar orbiter quando solar orbiter si avvicina segue la rotazione del sole quasi alla stessa velocità è un po' più lento e quindi potrà osservare puntare le macchie una macchia solare in particolare ad ogni passaggio per molti giorni e questa è anche cosa che non si è mai fatta prima tra l'altro a proposito di questo secondo me molti non non immaginano quanto poco sapevamo del sole perché prima si diceva scherzando che è una palla di fuoco però noi realmente poche generazioni fa a fine dell'ottocento inizio del novecento davvero non avevamo idea di come cosa fosse il sole o come come mai brillava perché tutti i processi riguardano la fusione nucleare all'interno serve la fisica quantistica per capire esattamente tutto il processo di fusione che porta poi dopo a quelle che vediamo come il sole quindi noi siamo una delle prime generazioni della storia dell'umanità che può guardare beh non guardare direttamente il sole ma comunque vedere il sole e sapere che cos'è o anche le stelle quindi è da pochissimo che stiamo davvero capendo quindi queste missioni sono immagino ognuno apre un intero nuovo capitolo sulla nostra conoscenza sicuramente e anche per esempio l'era spaziale ha confermato qualche sospetto che c'era fin dagli anni 50 qualcuno sospettava che ci fosse un legame tra l'attività solare e fenomeni sulla terra come le aurore boreali per esempio variazione nei raggi cosmici appena mandato qualche satellite sopra l'atmosfera si è capito che il sole non finisce in questa palla di fuoco che vediamo ma in effetti si espande si espande ben oltre l'orbita della terra quindi noi vogliamo con la terra orbitiamo attorno al sole ma siamo immersi nello strato più tenue più superficiale dell'atmosfera solare solare e quindi questa è una scoperta quasi impensabile fino a pochi anni prima dell'era spaziale questo Eugene Parker che adesso è una delle sonde in volo prende il suo nome è ancora vivo tra l'altro Eugene Parker ipotizzò l'esistenza di questo vento solare questa heliosfera che non c'era nessuna prova l'hanno data ai satelliti tra l'altro lì c'è una storia bellissima delle alcune prime missioni lanciate verso la luna che dovevano arrivare alla luna nessuno era interessato ad altre però continuavano a misurare i livelli diversi di radiazione e non riuscivano ad arrivare alla luna perché arrivavano tipo a 100.000 km e poi ricadevano giù però furono tra le prime missioni a misurare appunto quelle che ora conosciamo come le fasce di Van Halen esattamente esattamente anzi credo che la prima missione a misurare radiazioni oltre la luna oltre l'orbita lunare è proprio una missione russa che sovietica che doveva andarsi a schiantare sulla luna invece l'ha mancata e avendola mancata tutto proseguì nel male il bene fondamentalmente sempre sempre tra l'altro volevo menzionare che anch'io mi scordo sempre però a marzo di quest'anno purtroppo è scomparso di Jim Parker quindi era vivo ah mi spiace ho detto che era ancora vivo no pensavo l'ho visto ho visto appunto che al lancio c'era ancora sì 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 c'era ancora c'era ancora fino a marzo di quest'anno ha fatto in tempo però a vedere il primo pacchetto di risultati arrivati l'anno scorso è successo anche a noi con l'astronomo che scoprì la cometa di Rosetta uno dei due Churyumov è venuto anche all'arrivo eccetera quindi si è visto tutta la missione ed è morto due o tre settimane dopo la fine della missione di Rosetta è stata una cosa molto commovente e sì vado sì 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 scusa ok visto che parlavamo comunque di imprevisti cose andate male però comunque voi risultate buone c'è stato poco tempo fa qualche giorno fa un detrito che ha colpito lo scudo primario del James Webb Telescope un piccolo micrometeorite quindi però niente di particolare a questo mi volevo ricollegare se c'erano se ci sono stati eventi simili con i micrometeoriti che hanno che hanno dato problemi a sonde nel centro controllo dell'ESA qualche qualche cosa qualche collisione imprevista simile diciamo allora le nostre sonde diciamo che si sono allontanate dalla terra al momento non mi viene in mente un episodio che siamo riusciti a ricondurre con certezza a un micrometeorite a volte ci sono stati gli episodi che potevano essere spiegati così ma non abbiamo le prove ma i satelliti che girano attorno alla terra a momenti ne perdevamo anche perché lì non sono tanto micrometeoriti sono detriti spaziali però l'effetto è lo stesso e per esempio senti nel 1A nel 2014 pochi mesi dopo il lancio è stato colpito da uno di questi detriti una particella microscopica tra l'altro non sappiamo se un detrito spaziale o un micrometeorite molto probabilmente detrito spaziale per via dell'orbita che aveva comunque ci ha colpiti a 11 km al secondo che non è bello non vi auguro di essere colpiti da una esatto esatto una cosa di 2 mm se ricordo bene e ha fatto un cratere di 40 cm nel pannello solare e facendoci perdere parte della potenza però per fortuna non tanto per fortuna ha mancato il corpo principale del satellite te l'ha mancato credo di un millisecondo e niente questo succede ecco i micrometeoriti come quello che è successo James Webb nello spazio interplanetario sono meno sono molto più rari però non li si può escludere non li si può escludere anche perché si vola in zone magari dove si accumulano anche per esempio noi con Rosetta abbiamo attraversato due volte la fascia degli asteroidi che è piuttosto vuota non è come magari la gente o i film di fantascienza ci vogliono far pensare però sì però in vicino agli asteroidi ci sono detriti e quindi bisogna stare molto attenti per vedere no è anche un po' la fregatura l'altra parte la faccia della medaglia è di costruire cose molto grandi quindi l'hai voluto un telescopio di 8 metri complicatissimo costosissimo messo in un punto dove non potesse essere riparato no no certo ma più diventa grande la superficie ovviamente più più chance di incontrare problemi però dall'altra parte più hai superficie per compensare se perdi certo magari un pixel eh per esempio i nostri pannelli solari di Sentinel 1 erano grandi abbastanza da compensare e io volevo chiedere una cosa riguardo alle missioni so che prima per esempio parlavamo di dinamica orbitale una delle mie missioni preferite per andare al sole per studiare il sole non è andata verso il sole ma verso Giove che può sembrare estremamente controintuitivo controintuitivo come mai qual è la sua storia? è questo così stai parlando appunto naturalmente di Ulysses con in effetti è quella con cui praticamente apro il libro e Ulysses è una missione storica perché è l'unica che ha lasciato il piano dell'eclittica citavo prima il piano dell'eclittica praticamente tutti i pianeti orbitano attorno al sole più o meno sullo stesso piano e quindi quando si lanciano le sonde siccome si usa la velocità della terra che è su questo piano per appunto lanciarle lontano si approfitta di questa velocità le sonde volano su questo piano ora Ulysses voleva misurare l'eliosfera cioè quindi le emanazioni di vento solare e di campo magnetico dal sole sopra i poli sopra e sotto polo nord polo sud e per fare questo bisogna lanciarlo praticamente perpendicolare alla velocità della terra ora ci vuole un razzo praticamente ci vuole in teoria ci vuole una velocità infinita se si vuole fare un angolo retto perché questo sta andando a 30 km al secondo insomma il razzo non ce l'avrebbe fatta spararlo perpendicolare e quindi si è usato un trucco si è lanciato la sonda molto veloce tra l'altro nel piano dell'eclittica usando la spinta della terra verso Giove quindi lontano dal sole verso Giove arrivando a Giove diciamo correggendo la traiettoria in modo che passasse sopra Giove ha usato la gravità per deviarlo e farlo volare sotto praticamente ha attraversato Giove dall'alto diciamo non Giove ma è passato vicino a Giove dall'alto al basso ed è stato lanciato come una fionda su un'orbita quasi perpendicolare al piano dell'eclittica se ricordo bene 80 gradi qualcosa del genere e poi ha continuato ovviamente stando piuttosto lontano dal sole perché se sei andato verso Giove non è che torni più molto facilmente torni più o meno a distanze come quella della terra ma intanto quando passava sui poli solari era a varie centinaia di milioni di chilometri però ha potuto misurare per molti anni perché poi Ulysses doveva fare un giro solo 5-6 anni e invece poi è stata estesa l'abbiamo spenta noi quando io ero nel frattempo però ho diventato responsabile anche di questa missione e mi è toccato spegnerla appunto una decina da anni cos'era 2009 2009 sì sì 30 giugno tra l'altro è stata anche l'ultima missione lanciata con uno shuttle l'ultima missione di questo tipo perché poi nel frattempo c'era stato lo shuttle challenger che purtroppo ha portato la morte di 7 astronauti quindi non si poteva lanciare subito quindi in ritardi anche lì certo sì è un posto speciale io tra l'altro ne parlavamo prima di iniziare la live sono affezionato a questa missione perché poi non ha una fotocamera quindi non ha scattato delle immagini particolari ma comunque ha fornito dei dati unici aveva un profilo dinamico unico e è una bellissima storia di come anche molte missioni iniziano con in un modo poi si trasformano in base alle necessità budget difficoltà di singole agenzie spaziali perché inizialmente dovevano essere due missioni giusto ha una storia molto tormentata prima questa che citavi adesso dovevano essere due sonde un'americana e un'europea che facevano il giro praticamente all'opposto quindi una stava al polo nord al polo sud e poi si invertivano poi gli americani si sono ritirati quindi si è lanciato la sonda europea con l'aiuto degli americani space shuttle eccetera e anche con strumenti misti poi c'è stato il challenger appunto che l'ha rimandato doveva partire nel 88 89 non mi ricordo è stata rimandata anche di questo parlo nel libro e poi invece appena partita è saltata fuori una cosa ovviamente mai prevista sempre il sole che ci ha fatto lo scherzone aveva uno dei questi bracci che si estendono dalle sonde quando sono nello spazio perché devono portare gli strumenti specialmente quelli che misurano i campi magnetici eccetera lontani dal corpo della sonda per non essere disturbati questo braccio mentre la sonda ruotava veniva illuminato dal sole periodicamente e cominciava a fare delle distorsioni termiche che nessuno aveva previsto e la sonda cominciava a perdere l'assetto e quindi ne abbiamo dovuto inventare di tutto non ve le racconto perché se no non leggete giusto tra l'altro perché è appena arrivato ve lo fa vedere Davide potete già trovare in tutte le librerie il lato oscuro del sole e il libro e lo trovate è uscito da poco quindi potrebbero anche beccarti in qualche libreria in futuro ci farei delle presentazioni in giro per l'Italia allora sì in effetti tra l'altro proprio questa settimana io sono arrivato oggi a Milano e quindi per esempio domani sono a Novara al circolo dei lettori a presentarlo venerdì sono a Milano in galleria a Larizzoli a firmare i libri venerdì sera alle 6 e poi partecipo domenica al festival della letteratura di Salerno non so cosa ci faccio io al festival della letteratura però chiedetelo agli organizzatori mi hanno invitato hanno capito male evidentemente no è letteratura scientifica anche quella cioè comunque sì 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 però ma io in realtà posso dire che è scritto veramente bene e avendone letto una certa quantità posso dire che non è facile trovare dei libri che parlano di questi aspetti in cui c'è così tanta umanità e allo stesso tempo viene raccontato con una struttura in cui che è avvincente dall'inizio alla fine quindi non è che c'è una parte divertente e poi il resto sono dati quindi vi assicuro che se vi sono piaciuti i libri che ho scritto o se comunque vi piacciono i libri di cui vi parlo sono bellissimi sono assolutamente belli vi straconsiglio di comprarlo anche se non conoscete molto del mondo spaziale è un ottimo modo per avvicinarvi e vi piacerà tanto poi se siete nelle scuole se lavorate so che diversi che seguono questo canale le live sono anche professori a scuola professoresse è un'ottima idea usarlo a scuola penso che poi dopo Paolo sarà d'accordo per te ma naturalmente puoi continuare con l'Elodie io sono sempre molto meno accetto no però devo dire una cosa che è interessante su quello che hai detto adesso io cerco di raccontare le storie umane che sono dietro queste cose appunto per esempio parlo veramente poco di scienza perché non è il mio lavoro io sì sono di background uno scienziato ma il mio lavoro è quello di portare gli scienziati al loro obiettivo o perlomeno portare i loro strumenti e riportargli i dati e poi lo fanno loro la scienza quindi io parlo abbastanza poco di scienza però ci tengo a raccontare come viene fatta la scienza e sono storie umane e spero di dare il messaggio che lavorare nella scienza e nella tecnica il nostro lavoro è molto ingegneristico è appassionante soprattutto ai ragazzi delle scuole che non è che uno che fa lo scienziato è sempre lì a fare i conti a leggere i libri a fare le fotocopie vabbè adesso le fotocopie non si fanno più però a mandare email anche se noi passiamo tanta della nostra vita davanti agli schermi del computer questi schermi del computer ci mostrano un mondo incredibile molto complesso bisogna usare la testa qualche volta bisogna fare anche qualche conto ma non vi dico da quanto non calcolo più un integrale o un'equazione differenziale i computer fanno il lavoro per noi ma ci portano in questo mondo straordinario quindi io cerco di raccontare quanto quanto è divertente e appassionante anche se spesso anche molto stressante fare un lavoro nel campo della scienza e tanta gente si immagina la scienza in un modo veramente barboso è assolutamente il contrario anche tutte le volte che ho avuto la possibilità e l'onore di incontrare persone che io uno dei miei momenti preferiti è la prima volta che ci siamo visti tra l'altro che eravamo una trasmissione in televisione e c'era anche credo anche Andrea a comazzo ed eravamo nella sala prima dell'inizio della trasmissione e cioè nessuno voi eravate parte di questa missione da un sacco e continuavate a raccontare aneddoti della storia della missione tra di voi per me era incredibile da vedere perché dall'altra parte noi pensiamo che questa è una cosa che facciamo noi che siamo appassionati ed è commovente bellissimo vedere che le persone che lavorano sono tanto appassionate quanto noi che le seguiamo è stato uno dei miei momenti preferiti di sempre da quando lavoro come divulgatore vedervi soltanto tra di voi che parlavate di questi aneddoti e mi ricordo che parlavate della programmazione di file fatta mentre file era nello spazio qualcosa che lo riguarda perché mi ricordo che Andrea ancora diceva ancora non riesco a credere che siamo riusciti a farlo strada facendo era emozionante vedervi così quindi è stato bellissimo per me rivedere quello spirito nei trebbi libri grazie tra l'altro volevo dire un'altra cosa che quando si parla delle visioni molto spesso tradizionalmente è stato un campo estremamente maschile cioè moltissimi erano uomini ora che tantissime facoltà scientifiche si stanno hanno dei numeri femminili molto più grandi stiamo vedendo anche nella ESA un numero maggiore di donne protagoniste dietro queste missioni quindi per le ragazze che magari stanno ascoltando ora che non hanno molti esempi citati spesso riguardo a donne che lavorano nel mondo spaziale anche qui tra di noi non c'è stasera una donna quindi volevo spezzare una lancia in questo senso e dire che ci sono vero? Ci sono sempre più donne nella ESA assolutamente va bene nel mio primo libro ne avete chi l'ha letto e ne ha già incontrate ci sono ragazze che mi sembra di avere cresciute io e quindi ci sono veramente molto affezionato e che sono ancora lì e dicevo tra queste persone che dicevo prima del mio team che gestiscono in questo momento l'esplorazione spaziale europea ci sono anche donne e una la citavo nel libro era un personaggio importante che è questa Elsa Montagnon che è arrivata giovanissima su Rosetta e adesso è il mission manager di Beppi Colombo è stata a lungo l'operations manager adesso è mission manager nel direttorato della scienza nel mio nuovo libro ci sono altre ragazze che appaiono come Silvia San Giorgio anche lei è arrivata molto giovane e adesso lavora sulle missioni marziane ma è passata da cluster e la vedete appunto in certe storie che racconto la vedete crescere con le avventure di cluster che sono assurde cosa non è successo a questa missione vecchissima è una missione che un ingegnere quando la vede dice ma l'ha progettata un pitecantropo invece è lì ancora che vola e questi ragazzi inventano soluzioni assurde per farla volare ancora quindi dicevo prima la diversità all'ESA prima di tutto l'ESA si è impegnata molto non di recente ma addirittura vent'anni fa a cercare di aumentare la percentuale vergognosamente bassa che avevamo di donne e questa è aumentata non di tantissimo ma bisogna anche capire che quando uno fa quando fa un diciamo un bando per un posto le domande delle donne sono tuttora non so sono passate in vent'anni dal dal meno del 10% a un po' più del 10% e noi siamo raggiunti in certi settori come quello delle operazioni siamo ormai al 20% che è già un grande successo per noi ma è sempre troppo poco però la diversità è nel DNA dell'ESA noi siamo di 22 nazioni diverse appunto abbiamo background accademici diversi generi diversi sempre di più e questo per citare solo alcune delle diversità ma anche anche lo stesso un ingegnere aeronautico tedesco è diverso da uno italiano da uno inglese e se si usa questa diversità e all'ESA tanti manager hanno imparato a farlo è una ricchezza enorme spesso vi dicono è l'ESA importante perché mette insieme i fondi di 22 nazioni europee si può fare qualcosa di più costoso più grande non è solo quello e anche mettiamo insieme le diversità culturali le diversità anche di ogni genere le mettiamo insieme e la somma è maggiore dei come si dice il totale è maggiore della somma ma è anche una cosa quella dell'aumento della percentuale delle ragazze iscritte l'ho vista anche io sulla mia pelle direttamente all'università ho fatto la sapienza e già da quando mi sono iscritto io a quando sono praticamente uscito ci ho messo un po' di più dei 5 anni 3 più 2 era già palesi che c'era un cambiamento in atto sono stato molto contento di questa cosa perché noi siamo iscritti che eravamo più o meno 2-300 la maggioranza maschi e invece quando sono uscito io i primi anni erano non dico metà e metà però uno faceva fatica a capire qual era la percentuale e dov'è che si sbilanciava quindi è molto bello vedere che le cose funzionano e che non c'è più quella specie di patina bianca che preclude delle strade a un genere piuttosto che a un altro quindi mi auguro non ci sia più io sono un po' meno ottimista io credo che già in Italia la situazione sia migliorata molto anche rispetto ad altre nazioni io vedo anche differenze tra le nazioni però però i miglioramenti ci sono stati non è ancora stato superato del tutto bisogna ancora lavorare tanto è anche un ruolo molto importante di voi divulgatori di noi divulgatori mi metto tra i divulgatori adesso è veramente un ruolo importante quello di sottolineare sempre che appunto la diversità di genere tutte le diversità sono estremamente sono una grande ricchezza se le si usa nel modo giusto è vero allora non so se ci sono altre domande del pubblico che volevi passare sì ce n'erano una sugli scenari simulati quando nel centro controllo si simula una missione siamo tutti pronti ancora deve partire però si cominciano a provare tutte le varie operazioni e quello che succede la domanda era più che altro sulle figure che creano i problemi da risolvere c'è qualcuno di internamente sadico che dice ok adesso gli faccio esplodere un pannello solare assolutamente c'è proprio un team dedicato a questo assumiamo di solito sono non sono neanche magari c'è uno o due dell'ESA ma la maggior parte sono contrattisti sono giovani di solito è gente che arriva con pochi anni di esperienza e questi team gestiscono le simulazioni fanno esattamente quello che l'ascoltatore ha domandato noi li assumiamo già sadici e perversi al punto giusto c'è proprio una selezione apposta una candidatura allora esatto esatto li mettiamo in una stanza sotto terra così sono anche più cattivi e loro sotto terra adesso sto scherzando ovviamente comunque sono in uno stanzino isolato da noi noi siamo sopra e facciamo finta che sia la vita vera e vi assicuro che sembra così vera che la gente esce distrutta dalle simulazioni noi la prendiamo veramente molto seriamente ed è il modo migliore per imparare questi ragazzi stanno sotto terra in una stanza separata ascoltano tutto quello che diciamo con i nostri voice loop con i microfoni e cuffie vedono tutta la telemetria controllano il simulatore e hanno il loro piano e provocano dei guasti e dei problemi poi vedono come reagiamo e ci fanno penare per una giornata intera 8-10 ore dopodiché ci troviamo nella sala dietro la sala controllo tutti insieme e uno di questi ragazzini anche a gente come me con i capelli bianchi che magari fa il direttore di volo e che ha 30-40 anni di esperienza si mette lì in fronte e gli dice tu hai sbagliato questo tu hai sbagliato quello tu dovevi fare così in quel momento perché hai detto così perché hai scelto quello è un processo estremamente stressante estremamente divertente perché è entusiasmante il gioco però è molto importante senza di quello le nostre missioni avrebbero penso un 30% di fallimenti mentre in realtà siamo praticamente al 100% di successo è anche un voto di fiducia fondamentalmente cioè il fatto che vi mettiate nelle mani di chi vi fa provare quello che poi sarà nella realtà anzi a questo punto mi verrebbe da chiedere in che modo è stata non so c'è un aneddoto che si ricorda che di un'esercitazione che è stata provata su una roba assurda e poi magari è successa non so se si può dire sì no ripeto anche nel libro lo riempio di guasti veri racconto forse un po' meno delle simulazioni perché vabbè quali sono i guasti finti però diciamo quello adesso sui due piedi devo pensare a qualche esempio comunque in generale quello che succede nei nelle simulazioni è non è che i guasti sono sempre plausibili e poi alcuni dei guasti che vengono simulati poi succedono veramente però sono molto rari quelli i guasti simulati che poi veramente si realizzano il bello è che questi guasti e le nostre reazioni ci addestrano talmente che quando succede un altro guasto che non c'entra niente noi siamo molto pronti a reagire come se avessimo già visto questo guasto perché abbiamo già provato vari scenari e se il guasto è diverso non vuol dire necessariamente che le reazioni sono completamente diverse per esempio nel caso di Rosetta abbiamo avuto una perdita di gas una perdita di gas che ci ha costretto a cambiare la strategia dell'utilizzo della propulsione e a cambiare la traiettoria la traiettoria proprio di volo verso la cometa e non abbiamo mai simulato la perdita di gas però abbiamo simulato altri errori altri guasti che ci hanno praticamente causato dei problemi alla propulsione e la soluzione è stata cambiare la traiettoria perché non potevamo usare la propulsione come volevamo quindi guasti diversi portano lo stesso tipo di soluzione però è rarissimo che un guasto in simulazione avvenga in realtà ne succedono completamente di diversi e poi un'altra cosa nelle simulazioni siccome appunto i simulatori ci portano i ragazzi delle simulazioni ci portano all'estremo ci fanno veramente ci portano all'estremo della sopportazione mettono guasti successivi quindi uno si sta già occupando di un guasto ne accade un altro verso la fine della simulazione siamo veramente all'esasperazione spesa quello è un problema mi chiedo a questo punto se i sadici simulatori avevano previsto tra i problemi possibili quello della pandemia la uso come il gambetto per collegare che cosa è successo come andare esatto ottimo esempio tra l'altro verso la fine del libro siccome l'ho scritto anche su solar orbiter solar orbiter l'abbiamo lanciato un mese prima della chiusura totale dell'ESO per la pandemia due settimane prima che scoppiassero i primi casi diciamo le prime chiusure i primi lockdown in Italia quindi per fortuna quello però poi solar orbiter è stato colpito nelle sue fasi iniziali dalla pandemia perché perché di colpo abbiamo dovuto mandare tutti a casa e il cosa succede appunto per tornare alla tua domanda nelle simulazioni noi simuliamo anche gente che si ammala quindi facciamo non so tutto un tratto l'ufficiale di simulazione all'inizio della simulazione noi siamo lì tutti pronti a prendere i nostri posti e dice tu vattene via perché tu sei malato e il team deve reagire su questo non abbiamo certo simulato la possibilità che il centro non fosse disponibile questo ci ha colto completamente di sorpresa anzi ho detto il termine sbagliato noi abbiamo scenari che simuliamo che chiamiamo e sono al di là delle simulazioni per missione sono fatte a livello di centro simuliamo le crisi crisi può essere che ne so un terremoto una bomba atomica no magari non una bomba atomica un incidente atomico che abbiamo una centrale qui a 30 km queste cose e simuliamo quello ma è tutto incentrato al fatto che i nostri strumenti i nostri computer le nostre sale controllo non sono accessibili di colpo c'è stato un terremoto e allora noi abbiamo tutti dei sistemi ridondanti in altri posti del mondo dove il nostro piano è di mandare le persone e continuare a operare da questi posti in Spagna in Svezia abbiamo le nostre stazioni e siamo pronti per quello ebbene non avevamo uno scenario che è esattamente l'opposto il centro di controllo funziona benissimo ma le persone non possono muoversi non possono viaggiare non possono non possono venire al centro questo non l'avevamo mai previsto e quindi è stato questa è stata una delle ultime crisi che ho dovuto gestire nella mia carriera vi assicuro che sono molto sollevato di non averne altre di fronte perché in due settimane avevamo 20 satelliti sonde in giro per il sistema solare in due settimane abbiamo dovuto inventare tutto di nuovo in modo che la gente potesse lavorare da casa per il 95% è stato veramente incredibile è andata bene è andata abbastanza bene con qualche episodio difficile che racconto alla fine del libro io poi dopo non vorrei poi spoilerare tantissimo quindi non farò troppe domande riguardo al libro perché sono troppo felice se le persone poi dopo una volta che lo leggono si stupiscono esatto tra l'altro è quello lo trovate già ordinatelo andate nelle librerie trovate poi dopo sui social di Paolo giusto se ti trovano su Twitter dove possono trovare tutte le informazioni sì io uso tanto LinkedIn e Twitter si può c'è la terza per per i vari che è l'editore per i vari link a comprarlo ad Amazon ad altre librerie nel caso nel caso serve mi veniva in mente ora mentre parlavate delle simulazioni che in una delle biografie che avevo letto di di Charlie Duke lui ne nominava a un certo punto quanto li maltrattavano anche loro durante le simulazioni per le missioni di Apollo e diceva che quando sono ritornati dalla Luna tutti dicevano sollevati ah ma ci avete fatto pensare che sarebbe successo di tutto e di più poi non è successo però una cosa che hanno realizzato che non era neanche neanche chi simulava i guasti ci aveva pensato intenzialmente ma poi dopo è stato inserito intenzialmente è che hanno migliorato moltissimo la comunicazione tra di loro e la gestione dell'ansia esattamente all'inizio anche se quei guasti non capitano sviluppi tutta una serie di reazioni di conoscenze di cos'è che ti fa paura come gestire la paura come comunicare quando hai paura con un'altra persona immagino che possa essere simile assolutamente hai detto una cosa giustissima mi fa piacere che lo dice Charlie Duke perché avrei potuto dire lo stesso e io dico diciamo dico spesso una cosa che è molto simile a questa i problemi principali diciamo gli errori operativi principali che ho visto nella mia carriera erano tutti dovuti a comunicazioni sbagliate mancanza di informazione soprattutto per esempio quando i team lavorano a shift a turni e allora un team se ne va bisogna passare un sacco di tempo a simulare come si passa l'informazione perché se non la passi bene quelli dopo fanno un errore quindi tutto il nostro lavoro perché ciascuno è un super esperto del suo settore ma lì stiamo parlando di 50 60 70 persone che lavorano insieme devono comunicare quindi tutto il nostro lavoro soprattutto l'addestramento nelle simulazioni è proprio quello di fare in modo che le comunicazioni siano veloci non ambigue molto chiare non ridondanti e quando sbagliamo è sempre un problema di comunicazione non è mai un singolo che ha fatto un errore perché si è addormentato perché è scemo non succede mai queste persone singolarmente sono bravi sono bravi invece le comunicazioni sono fondamentali e noi partiamo in una campagna di simulazione di sei mesi partiamo con magari mille procedure scritte e le procedure ovviamente spiegano come comunicare alla fine dei sei mesi le abbiamo riscritte l'ottanta per cento perché abbiamo imparato che in certi punti non erano chiare non era chiaro a chi passare l'informazione chi dovesse riceverla è tutta questione di comunicazione nelle operazioni di volo io sono sempre molto stupito da quanto poi dopo e tra l'altro questo vale tantissimo per entrambi i libri quello che quello che è scritto qui non è solo una storia appunto delle sonde ma anche degli esseri umani dietro come abbiamo detto ma anche poi un manuale diciamo manuale è una parola sbagliata però per me da storico è una testimonianza di quanto gli umani sono incredibilmente bravi a migliorarsi cioè perché è una delle cose che sottovalutiamo tantissimo e credo che possa essere o almeno per me lo è sempre stato leggendo libri come questi pro memoria riguardo a quando ci vediamo davanti sfide enormi come il cambiamento climatico e mille altri problemi che dovevamo affrontare che siamo assolutamente capaci credo davvero fermamente che siamo 8 miliardi sulla terra se fossimo neanche tantissimi ma un po' più bravi a comunicare tra di noi a condividere esperienze e problemi e parlare dei problemi farebbe tutta la differenza del mondo quindi dovremo imparare da voi da quello che avete fatto all'ingenzia spaziale europea perché credo che possa essere una delle cose che salverà il mondo non solo le scoperte ed è una cosa che mi dispiace tanto che non si nomina mai abbastanza perché si parla tanto dei spin off tecnologici e delle scoperte però penso che il metodo proprio perché alla fine gli umani sono bravi a risolvere problemi e l'ESA è uno dei dei modi in cui abbiamo sviluppato perfezionato proprio questo lato dei umani di risolvere problemi e quindi credo che possa essere una scuola su come in mille altri campi potremo risolvere problemi niente quindi grazie davvero davvero con tutto il cuore per aver scritto questi libri da appassionato di spazio da storico e da divulgatore è un onore averti avuto questa sera qui io parlerei per tutta la notte però poi ovviamente tra l'altro in chiuso visto che molti hanno continuato a scrivere che c'è anche la partita vero che c'è un aneddoto in cui tu parli di una partita in Italia-Germania giusto? è vero all'inizio di uno dei capitoli è stata molto importante sia per me personalmente ma proprio per il nostro gruppo che si occupava delle missioni interplanetarie quindi in questo libro di cui parlo principalmente in missioni interplanetari inizio il capitolo dicendo che in quell'anno appunto il mio capo divenne capodipartimento io ho preso il suo posto e creammo questa divisione per le missioni interplanetarie è nata con noi e il mio capo era tedesco e grande grande appassionato di calcio e quell'anno proprio in quei giorni proprio in quei giorni l'Italia batte 2 a 0 la Germania poi divenne campione del mondo e appunto non potevo fare a meno di citare questo episodio anche perché lui non me l'ha mai perdonato no beh no lui è diventato capodipartimento per carità però diciamo ha dovuto buttarsi nel lavoro e dimenticare il calcio per un po' sì no e poi oltre i libri consiglio anche a chi ci segue se magari vuole rimanere intrattenuto anche su youtube una bella masterclass sempre di Paolo targata esa che trovate su youtube con qualche altra puntata e aneddoto su anche la cultura del lavoro sulla comunicazione all'agenzia spaziale europea ve la lascio in chat dopo vi guardate gli altri episodi sono molto molto interessanti anche questa è un'altra media devo dire quando ho detto all'ESA che andavo in pensione mi hanno fatto fare questa cosa è stato un po' un progetto pilota quello di dire catturiamo un po' di lezioni ma lezioni non lezioni tecniche ma proprio messaggi in inglese dicono lessons learned cose che hai fatto giusto che hai fatto sbagliare cosa hai imparato nel tuo lavoro e quindi è stato un lavoro incredibile noi stavamo lanciando Solar Orbiter io ero pieno fino a qui mi hanno fatto io penso di averci passato solo non so forse una settimana di lavoro tra una cosa e quell'altra e hanno fatto però un lavoro molto professionale ed è risultato in cinque brevi masterclass sono cinque filmati credo da un quarto d'ora venti minuti in cui però almeno posso raccontare le mie storie io ho alleso che ero ero temuto per gli aneddoti che raccontavo e continuavo a riraccontare alle stesse persone che li avevano sentiti decine di volte adesso li può sentire il grande pubblico felicissimi felicissimi di sentirli quindi in chiusura per chi vuole trovarti quindi ricordiamo che ti trovano su twitter e su linkedin giusto si e poi in tutte le migliori librerie anche le peggiori dappertutto le peggiori in bar di caracas anche lì esatto i libri sono il più recente appunto che è il lato oscuro del sole che Davide Davide il libro devi mostrare il libro però lo mostro io non ti distratti giusto giusto perché io io purtroppo con il fatto che viaggio tantissimo io domani devo andare a fare uno spettacolo a Treviso quindi no no è già in viaggio con i miei bagagli fino a Treviso mentre io ho il precedente che è il cacciatore di comete quindi comprateli entrambi e grazie davvero di cuore a Paolo e grazie a voi che siete stati fino a ora a seguirci e non vediamo l'ora di averti qui anche per il terzo libro perché non c'è due senza tre c'è proprio da proverbio quindi è già è già è già in in preparazione il mio editore non lo sa ancora quindi ok spoiler no vabbè sono felicissimo grazie ragazzi grazie tante è sempre un piacere con voi grazie piacere buona serata ciao buona serata ciao ciao